Grazie a tutti, sono Marco Meschiari e ledo l'Analytical R&D Team of Neutron. Parlando del mio lavoro, a volte la gente mi chiede, cosa è l'Analytical Chemistry? Beh, l'Analytical Chemistry è la scienza che si tratta con l'analisi delle sostanze. Si tratta principalmente tre task, separazione, identificazione e quantificazione delle sostanze. Prima, separiamo e isoliamo diversi compoundi che sono presenti in un sample. Secondo, identifiamo molecoli perché vogliamo essere sicuri che ci troviamo ciò che stiamo cercando. E terzo, quantifiamo molecoli perché se qualcosa è presente nel sample, vogliamo anche sapere la sua concentrazione. quantità è importante. Grazie al nostro analitico know-how, in Neutron, abbiamo analizzato un grande range di sampli, alimenti, ingredienti, raw materiale, per dettagli delle sostanze non vuole, ma anche per quantificare le sostanze buone. Le sostanze buone che stiamo cercando possono essere le nostre vitamine, le minerali o i fibrofondi. le sostanze buone che stiamo cercando possono essere presenti in una molto piccola quantità, part per un milione. E per dettagliare una così bassa quantità, necessitiamo dei metodi analitici molto performanti. Nel department R&D abbiamo installato questo metodo analitico, che utilizzano la migliore tecnologie, la nuova tecnologie, e l'attività statica. e l'attività statica. L'attività analitica di R&D è composto da 10 ricercatori che operano indipendentemente dal departmento routine, per impostare metodi che poi sono trasferiti al departmento routine in modo da essere usati per testare routine. L'attività di R&D è anche relato all'improvviso del nostro metodo analitico, in modo da ridurre il costo, da diminuire il limite di quantificazione, o da accelerare l'analitico. Ora vediamo l'attività di sample durante l'analitico, inizia dal departmento di acceptazione. Grazie. 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 Grazie.